Alla fine il tanto atteso tavolo del centrodestra si farà domani alle dieci e mezza nella segreteria cittadina di Fratelli d'Italia i partiti della costruenda coalizione si ruineranno per la prima volta per iniziare a scegliere chi dovrà essere il loro candidato a sindaco. Di certo sul tavolo ci sarà il nome di Vincenzo Casciana che dopo aver ricevuto il placet dai vertici nazionali e regionali del partito vince la sua personale sfida con l'altro papabile Salvatore Scerra e diventa il nome ufficiale che i meloniani proporranno agli alleati. Il nostro coordinatore provinciale ha già avviato le consultazioni con tutti i coordinatori provinciali dei nostri alleati e dei centrodestra ha richiesto una convocazione per domani mattina presso la nostra sede alle ore dieci e mezza questo sarà il primo tavolo del centrodestra in cui Fratelli d'Italia si presenterà con una proposta politica di partito noi presenteremo il nostro capogruppo Vincenzo Casciana. Domani sarà la volta buona per ufficializzare il candidato unico le incognite non mancano iniziere proprio dal nome di Casciana che pare non convinca proprio tutti i potenziali alleati i meloniani provano però a guadagnarsi la leadership anche se le variabili ci sono e sono tante. Il tempo ancora per poter determinare il sindaco ce n'è Casciana riteniamo che sia il nome giusto da poter presentare alla nostra coalizione naturalmente i tempi democratici vanno rispettati e siamo arrivati a questa conclusione. Attendiamo il tavolo di centrodestra domani e vediamo i partiti e i nostri alleati cosa risponderanno alla nostra proposta. Il patto nisseno tra Forza Italia e Fratelli d'Italia difficilmente troverà terreno di cultura per le amministrative locali Scuvera però lo rivendica fortemente anche se non è da escludere che al tavolo arriveranno anche altre proposte. Il patto non è tra due partite ma è stato fatto un patto di centrodestra in cui erano seduti là tutti i partiti di centrodestra quindi non capiamo perché non dovrebbe valere anche per Gela perché su quell'accordo provinciale si parlava di Caltanissetta e Gela. In che tempi contate di chiudere finalmente il candidato a sindaco del centrodestra con una coalizione centrodestra quanto più unita possibile? L'importante non sono i tempi naturalmente arrivare nel tempo utile per poter presentare le liste ma l'importante è arrivare con una proposta politica che sia condivisa da tutti per poter andare a governare con un governo che sia autorevole e legato al governo regionale e al governo nazionale che possa dare prosperità e futuro alla nostra città e ai nostri cittadini. Casciana è la migliore proposta che Fratelli d'Italia poteva fare al tavolo? Casciana è la nostra proposta da fare al tavolo è arrivato dopo mesi di dibattiti all'interno sia del nostro partito alla fine il coordinamento provinciale con tutto il coordinamento regionale e nazionale hanno stabilito il nome di Vincenzo Casciana che noi localmente avevamo già indicato tra i papabili possibili candidati sindaci.